Questa sarà una bellissima piramide! Ho un'idea molto migliore! No! Cosa stai facendo? L'hai rovinata! Ehi, ma cos'è? Interessante! Non ho mai visto nulla del genere prima d'ora! Sta per esplodere! Wow, è stupenda! Dammi! È mia! L'ho vista prima io! Impossibile! È mia! Togli le mani di dosso! Aia! Chi è? E lei chi è? È davvero lei? Non può essere! E cosa abbiamo qui? Due monelle che giocano con i giocattoli? Venite con me! Oh? Che cos'è? Barbie? Che strano! Non lo so, è così strano! Beh, diamoci da fare! Se lo dici tu, dobbiamo per forza! Sprighiamoci, dobbiamo riportarle indietro! Aha! Dice pulizia! Allora dobbiamo pulirle! Sembra piuttosto sporca! Ma non preoccuparti! Ti sistemerò io! Devi fare un bel bagno! Un bagno speciale, direi! Questo laverà via tutto lo sporco! Sarai una nuova Barbie nuova di secca! E poi passiamo al viso! Userò il mio dentifricio preferito! Devo solo fare piano! Ecco così! Ho quasi finito! Ora diamo un'occhiata! Stupenda! Ehi, i miei capelli sono bagnati! Ehi, cosa stai facendo? Non preoccuparti, cara! Non l'ha fatto apposta! Ora ti pulisco! Oh, ti piacerà! Vedrai! Con questa schiuma eliminerò tutto lo sporco! Pronta? Iniziamo! Evviva! E qua siamo al viso! Hai bisogno di un trattamento speciale! No! Fatto! Ora devo solo asciugarti! Vediamo cosa abbiamo con... Wow! Sei bellissima! Mercoledì, guarda! Anch'io sono pulita! Certo che lo sei! Questo è fatto! Oh! Cosa ti è successo? Ehi! Guardala! Oh no! Cosa sta succedendo? Ehi! La tua Barbie non è affatto migliore della mia! Aspetta! Sa cosa fare! C'è un modo molto efficace per eliminare i brufoli! Dai ferma! Ora ci penso io a te! Mi fai il solletico! Come è buona! Oh! Dici davvero? Non male affatto! Ma ora mi devo concentrare! Devo liberare mia sorella! Lo so! Io ti sto aiutando! Grazie! Ecco! Hai qualcosa sulla bocca! Non mi importa! Guarda e impara! Questa maschera renderà la sua pelle luminosa! Devo solo applicarla con cura e aspettare! Vedi? Che schifo! Come posso eliminare tutti questi brufoli? Fammi pensare! Credo di sapere cosa fare! Sì! Ricordo di averlo visto fare! Ottimo! E ora? Oh no! Di nuovo! Che noia questo prurito! Oh no! Immagino che dovrò farlo con la vecchia maniera! Accidenti! Lo sta facendo per davvero! Ecco fatto! E guarda che meraviglia! Accidenti! Sto meglio! Caspita! Ora la tua pelle sarà bellissima! Giuro che questo intruglio ti farà stare meglio! È ora di applicarlo! Strato dopo strato facendo molto piano! Eviterò le labbra e la parte delicata intorno agli occhi! Perfetto! E ora dobbiamo aspettare! Ed ecco fatto! Magnifico! Vedi? Ha aiutato! Ma come? Oh no! Devo fare qualcosa! Veloce! Hai bisogno di essere truccata! Farò del mio meglio! E ora aspetta qualche secondo finché non si asciuga! Ah! Fantastico! È ora di togliere l'eccesso! Ti ho fatto e questo non è per i miei denti, è per te mia cara! Voglio un look semplice! Le cose più semplici sono anche le più belle! E fatto! Chi è la più bella? Tu lo sei! Il trucco! Ah! Facile! Ma lo farò a modo mio! Scuro e tetro proprio come un vero vampiro! Che ne dici? Fido! Ma voglio quei puntini neri che hai tu! Questi? Certo! Nessun problema! Eccoli qui! Uno alla volta e ovviamente il mio simbolo distintivo! È una collana! Certo! Vedi? La tua barbie è patetica! Non lo è! Non ascoltarla! Il bagno! Devo andare in bagno! Veloce! Accidenti! Certo mia cara! Eccoti! Che sollievo! Che schifo! Pensavo che dovessi fare pipì! Scusami ma la puzza! Che schifo che odore! Ma aspetta! Posso? Cosa? Scusami ma mi serve un po' d'acqua! Ho un'idea! Spero che non ti dispiaccia! Oh no! Cosa stai facendo? Rilassa! Ti piacerà! Ora guarda! Non è incredibile? Caspita! Devo ammettere che avevi ragione! Sono splendidi! So fare di meglio! Adesso le faccio vedere io! Ci metterò un attimo! Allora che ne dici? Ti piacciono? Sì ma mi devi acconciare i capelli! Certo ti farò delle trecce! Proprio come me! Ecco ti sei stupenda! Grazie! E perché non usi quelle perline? Queste? Va bene come desideri! Devo solo farle in pezzi più piccoli! Rilassati! Non userò la tua testa! Userò un martello! Fatto! Proprio quello di cui abbiamo bisogno! Ma andiamo avanti! Pronta? Ecco! Mazzì piano piano! Sono sicura che ti piacerà! Beh hai ragione! Oh tesoro vieni dalla mamma! Che schifo! Che cosa? Ma dai sto scherzando! Non gli farò alcun male! Wow ma cosa c'è? È quello che penso che sia! Figo! Sarà qualcosa di meraviglioso come top da sirena! Lo voglio anch'io! Vediamo cosa riesco a fare! Ehi non è giusto! È mio! Certo che lo è! Ma ora è mia! Tutto ciò che è tuo è anche mio! Inoltre guarda che meraviglia! Questo top è così figo! Sei perfetta mia cara? No non ci siamo ancora! Ah perché? Le mie unghie! Guarda le mie unghie! Ok che ci vuole! Le farò dello stesso colore dei tuoi capelli! Meravigliose! Vorrei averle anch'io così! Un ultimo ritocco e sei pronta! Fatto il nero ti dona! Figo! Ma ora bisogna darsi da fare! Non ho ancora finito! Ai! Scott! Ma è proprio quello di cui ho bisogno se voglio sciogliere questi marshmallow perché è ora di aggiungere dei colori vivaci! Solo poche gocce! Bene! E mescoliamo! Chissà se ha funzionato! Ottimo! Direi di sì! Ma non ho ancora finito! Mi devo concentrare! Devo stare particolarmente attenta a non sbagliare! Il destino di mia sorella dipende da questo! E ora aggiungiamo dei glitter! Ora sì che sembra una vera coda di sirena! Wow! Sei così bella! Una coda dici? Va bene! Facciamo una coda! Io userò un altro metodo! Intanto mi serve la colla! È fatto! E ora ho bisogno di qualcosa per le pinne! Delizioso! Posso! E il mio gelato! Grazie! Sei sempre di grande aiuto! È perfetta! Ora va colorata! Questa volta aggiungerò un tocco di colore! Stupenda! Ora sembri una sirena! Brava! Ma c'è ancora una cosa che dobbiamo fare! Una corona! Ne penso di sapere come fare! Vediamo! Questa sarà la mia base! Poi aggiungerò i dettagli! Splendido! E ora aggiungiamo delle perle! Le sirene amano le perle! Non è vero? Vediamo! Ti piace mia cara? Penso che tu stia stupenda! Così banale come sempre! Ho un'idea! Mi piacciono questi dettagli appuntiti! E penso che sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno! Questa sarà la corona migliore che una sirena abbia mai avuto! Giusto mia cara? È favolosa! Grazie! Lo so! Bene direi che abbiamo superato noi stesse! Sei tu la migliore! Ne sono certa! Non ascoltarla! Sei tu la migliore! Evviva! Evviva! Non riuscirete mai a... Salve! Salve! Interessante! Per favore lascele andare! Per favore! Queste monelle? Va bene! Voi due laggiù! Ah? Siete venute! Andate via! Oh! Mi sei mancata così tanto! Sei al sicuro! Ora tutto andrà bene! Sì! Oh! Ah beh! Io sono contenta! Eh già! Eccomi! È arrivata la mia nuova scuola! Non vedo l'ora di incontrare la mia compagna di stanza! Stanza 305! Eccomi! Chi osa aprire la mia porta? Devi essere la mia compagna di stanza! Piacere di conoscerti! Mi abbracci! Una stretta di mano? Perché no? Che cosa? Cosa sei? Per favore non i capelli! Togliti! Togliti! Resta dalla tua parte! Com'è noiosa! Ben fatto, mano! Mi piace, ma manca qualcosa! Io lo so! Il mio lato ha bisogno di un tocco di colore! Sarà meglio cominciare! E... Fatto! Aia! Ehi, attenta! Aia! Ah! Ottima idea! Userò i pop-it come decorazione! Com'è colorata! Mi piace! Pop! Pop-it! Sono sia degli elementi decorativi che un ottimo antistress! Perfetto! Cos'è questo suono? RACE! Ancora! Come osa! Basta con quel rumore terribile! Ma fa sul serio! Ah! Aspetta! Ho un'idea! Questi bloccheranno qualsiasi suono! E deve essere per forza nero! Ehm... Funzionerà? Certo che sì! Ah! Ora posso suonare quanto voglio! Fa niente! Ha comunque un suo perché! Ah! Dov'è mano? Qua giù! Oh! 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 Mano! È ora di... Ah! Come scomodo! E questo letto? È troppo morbido! Se vuoi qualcosa fatto bene, allora devi fartelo da solo! Farò un letto da zero! Un gioco da ragazzi! Un gioco da ragazzi! La dimensione è perfetta! Incolliamo il tutto per bene! La privacy è un must! Una barra nera! Una barra nera! Non posso farne a meno! E le lenzuola a rete! Finalmente! Era così giovane! È solo un letto! Un letto! Un bel letto comodo! Molto bene! Ma manca qualcosa! Oh! Io lo so! Un hula hoop e del tulle! So cosa farci! E fatto! Sono troppo forte! Perfetto! Dove lo... Oh! Qui lo appenderò! Fatto! Buonanotte! Sogni d'oro, Grace! Le farò uno scherzo con questa piuma! Che lo spettacolo abbia inizio! Metto il solletico! Oh no! Devo grattarmi! Oh! Non di nuovo! Oh! Il mio letto! Ops! Meno male che ho questo fenicottero! È per la piscina, ma mi piace! Grande! Buonanotte! Io torno a dormire! Questo fenicottero è così comodo! Buonanotte! Veramente traditore! Dove metterò tutti i miei vestiti? Ah? Questi non mi servono! Oh! Grazie! Se li dipingo! Posso farci qualcosa! Devo solo assemblarli! Ma manca qualcosa ancora! È qui da qualche parte! Mutandine! Ops! Chissà cosa stava facendo Meg! Wow! Cos'è? Aspetta! Forse posso farci qualcosa! Il rosa è il nuovo nero! E ora una pen di abiti! Quanti colori! E soprattutto che organizzazione! È così eccitante! A me basta ne avanzano due dello stesso vestito! Ma dove dovrei metterlo? Oh! Potrebbe tornarmi utile! Ho un'idea! Sono troppo geniale! I'll dance, dance, dance with my bones! Ecco dov'era finito! Posso vedere adesso! Questa sì che è vita! Il mio vestito preferito! A tuo servizio! Manca qualcosa! Io lo so! Concerto per le feste! Come sto? Perfetto! E l'altra mia parrucca! Chibbia! Tondo di notte! Evviva! È tutto buio! Mi serve una lampada! Ma dov'è? Oh! Eccolo! Ma così non va bene! E mi basterà un po' di colla! Turno di notte eh! Adesso ti faccio vedere cosa combino! Ho bisogno di te ragno! E fatto! Sorprendente! Io odio il buio! Ops! Qui non c'è niente da vedere! Wow! Sembra facile! Ho anche tutti i materiali per farlo! Ci voglio provare! Ma a modo mio! Facciamolo! E' bello creare qualcosa perché decidi tu come deve venire! Pistola a caldo! Check! E incolliamo! Che bel cono! E... Appendiamoli tutti! Sulla parete! Wow! Oh non è fantastico! Carino e anche delizioso! Io! Guarda cosa ho io! Ho delle decorazioni tutte mie! Verranno benissimo! Appendiamole! Inquietante! Fatto! Vuoi vedere cosa c'è dentro? Veramente? Ci sono dei buonissimi biscotti! E me li mangerò tutti io! Sì! Fai pure! Ne vuoi uno? No! Grazie! Grazie! Dell'altro colore! Ho quasi finito! Un capolavoro! Veramente? Che ne pensi? Una vera narcisista! A me piace! La natura chiama! Non toccare le mie cose! No! No! Tiro a segno! Devo fare pratica! Ora basta! Questa stanza è ufficialmente divisa in due! Stai fuori! Come desideri! Ma... Ma... È io! E vale anche per te! Anche io posso fare della musica! Come... Forte! Spegnila! Come desideri! E vale anche per te! Non credo proprio! Bene! Il pulsante di svegliamento! Mano! Ho saputo che ti piacciono le creme per le mani! Crema per le mani! Perché ci mette così tanto? Mano! Che c'è? È così carina! Guarda! Sono così orgogliosa! È ora di un nuovo look! Niente pennello! Devo passare a misure estreme! Ora sì che te ne pentirai! Cosa fai? Cosa fai? Cos'hai fatto? Oh no! Penso sia meglio che io vada! Io ho deciso di traslocare! Finalmente! Coditi la solitudine! E il fenicottero verrà con me! Forza fenicottero! Lasciamola sola! Perché mi sento così in colpa e triste? È tutto così vuoto! Vero Mano? Ho un'idea! Tutta la stanza per me! Che bello! È troppo grande! Ma è anche troppo colorato, no? Oh! Oh! La piccola barra di Grace! Mi è piaciuta la sua idea con i biscotti! Lei mi manca! Grace! Lo sapevo che è... Ciao! Questo è per te! Grazie! Un biglietto! Ritorna! Oh! Torna in stanza con me! Andiamo Mano? Sì! Ha funzionato! Oh! Chi osa aprire la... Grace! Ho ricevuto il tuo regalo! Oh! No! Il mio era questo! Mi manchi! Oh! Ora capisco! Mano? Mano? Oh! Sono contenta di essere tornata! Oh no! Oh! Bentornata! Ah! Fatto! Cosa ne pensi? Ti piace? È fantastico! Ma dove dovrei appenderlo? Io lo so! Aspetta e vedrai! Mi piace! Anche a me! Ciao! Wow! Che bello! Tutto è così bello qui! Mio prezioso! Sarai mio! Ehi tu! Fermati! Non intralciarmi, bel faccino! Farei quello che ti dico io! Hai rubato tu il diamante! Ho fatto io il diamante! Meraviglioso! Sei in arresto! E ora verrai con me in commissiareato! Come può essere? Non ho fatto nulla! Sono condannata! Come farò ad uscire da qui? Oh! Ma per davvero? Come? Ma è ridicolo! I vampiri sono i migliori! E tra qui ladro! Non sono un ladro! Non ti credo! Chi sei tu? Fammi controllare! Sono un vampiro! Guarda! Queste zamne sono una prova schiacciante! Ok! Il vampiro può essere liberato, agente! Sì signora! Ok! Puoi andare! Cosa? Non è giusto! Non riuscirò mai ad andarmene da qui! Ai! Ehi ragazza! E' cipicchierina! Oh! Questo cos'è? Ehi! E' miro! Oh! Preso! Tanto non lo volevo! Allora! Cosa ci sarà dentro? Oh! Sembra che la fortuna sia dalla mia parte! Forse riuscirò ad uscire di qui? Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno! Partiamo dall'inizio! Devo solo capire come! Iu! C'è così tanta polvere! Aspetta! È geniale! Viso bianco e pallido! Ecco che arriva! Ora devo solo sfumare il tutto! Devo essere molto pallida! Fammi controllare! Perfetto! Torniamo all'elenco! Il primo passo è fatto! Oh che buon profumo! È cibo! Ho fame! È l'ora del pranzo! Questo hamburger sembra così delizioso! Sembra così delizioso! Agente! Cibo! Dammi del cibo! Per favore sto morendo di fame! Ho bisogno di mangiare! Ok! Ho del cibo per te! Questo dovrebbe tenerti tranquilla per un po'. Oh non vedo l'ora! Oh! Ma è commestibile! Non lo mangerò mica! Secondo me è davvero disgustoso! Non mi interessa! Non ti darò altro! Non ho più fame! Devo tornare al mio piano! Cosa posso fare ora? Oh! Le zanne! Conosco qualche trucchetto! Mettiamoci al lavoro! Sono una vera maga del fai da te! Sì! Eccole qui! Zanne perfette! Proviamole! Ma che... Perché non appiccica? Oh! Beh almeno questo schifo serve a qualcosa! Sembra che sia un ottimo collante! Evviva! Che spettacolo! Zanne fatte! Oh! Cosa ha questa luce accecante? Oh! Le chiavi! È la mia occasione! Oh sì! Forza! Ci devo arrivare! Non ci arrivo! Un modo ci sarà! Sì! Perfetto! Ora aiutatemi a prendere quelle chiavi! Ancora un po'! Cosa credi di fare? Stavo... Stavo solo facendo pratica con la schema! Sul serio? Non credo proprio! Prenderò io le chiavi! Non potrei scappare, signorina! C'ero quasi! Fa niente! Grazie per il lecca lecca! Il prossimo punto della lista è... Il trucco! Aspetta un attimo! Ma certo! Così dovrebbe andare! Userò la polvere rossa come ombretto! Un altro passo in avanti verso la libertà! Oh! Come sto? Dunque, il trucco... È fatto! Ora ho bisogno di avere i capelli rossi! Dove posso trovare una tinta rossa? Oh! Lo so! Ehi tu! Che c'è? Mi presti i tuoi capelli? Ehm... No! Oh, ma dai! Ok, beh, mi dispiace! Ma è l'unico modo! Ah, sto bene con i capelli rossi! Grazie! Eh? Cosa c'è sotto questa coperta? Wow! Questo è il mio giorno fortunato! Rosso, nero, un abbinamento perfetto! Uh! Incredibile! Finalmente mi piaccio! Ma manca qualcosa! Che ti guardi, prigioniera? Ecco! Mi serve questa cintura! Che succede? Ora l'ultimo tocco! Un bel accessorio da vampira! Ho fatto tutto sulla lista e la mia missione è completata! Oh, ora sono pronta! Ehi tu! Guarda, ora sono una vampira! Che cosa? Lo sei davvero? Una vera vampira, sì! Devo fare prima un test! Eccomi! Forza! Se lo dici tu! Hai visto? Oh no, le mie zanne! Emergenza! Non uscirai! Oh! È l'ora della pausa! Io vado! Ma ti terrò d'occhio! Che strazio! Devo scappare! Credo di aver trovato! Potrebbe essere la mia via di fuga! Devo togliere la griglia! Ia! Libertà, sto arrivando! Da che parte dovrei andare? Ok, da questa parte! Wow, è una specie di labirinto! Ci sono quasi! Ecco l'uscita! Libertà! Scusami, agente! Torna in cella! Wow, ho avuto un'altra idea geniale! Mi serve solo un po' di elettricità! Che trucco geniale! L'idea più figa di sempre! Ehi, agente! La scimmia vede, la scimmia fa! Piccola peste! Wow! Accendiamolo! Sei fuori controllo! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? I miei capelli o no? Perché urla? Non può essere vero o no? Cosa mi è successo? Io sono te! Il pigiama è mio! Non toccarmi! Ridammi il mio corpo! Questo è il tuo telefono! Facciamo a cambio! Un evento! Oggi ci sarà una battaglia di ballo! Fammi vedere il mio messaggio! Oh no! Tra una sola ora un appuntamento! Aiutami! 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 Ok! Ma ho una sola condizione! Tu verrai con me! E ti travestirai come dico io! Le cose della nonna ti staranno benissimo! Ecco cosa ti metterai! Oh! Oh! Ho i baffi in fronte! Che bel look da detective! Beh ok! Andiamo! Siediti e rilassati! Ti dirò cosa dire attraverso questo auricolare! Va bene! Tieni! Questo cosa qua! Ok! Oh! E qui! Non deludermi! Ehi piccola! Questo è per te! Che schifo! Oh no! Devi dire che sei allergica! Sono allergica! Ah! Fa niente! Ehi! Ora devi dirgli che devi andare in bagno! Che noia! Sono noioso! No! Io volevo dire sei così... Bello! Grazie! No! Oh no! Lui è il mio ragazzo! Aspetta! Cosa? Io non sono il tuo ragazzo! Intendo dire vorrei avere un ragazzo come te! Mercoledì ne sei sicura? No! Odio i ragazzi! Le ragazze siete così strane! La battaglia di ballo inizia tra cinque minuti! Tocca a te! Devi assolutamente vincerla! Io! Guardate che mosse! Sono la regina del ballo! Oh sì! Tocca a te! Adesso? Io! 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 Andatemi passare! Che ne pensi? Spostati! Scusa! Capricciante! Scusa! Si! Scusa! 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 Bravo! Bravo! Buongiorno! Ti Yokono per colpa tua! Ma ici! Ed è spiato! Ti farò vedere io! Adesso sì che rimarrete senza parole! It's hard to see your tears in the pouring rain! Oh, c'è la mia! Bye, Mercoledì! Just go now! Just go, go, go! Pensi di essere migliore di me? Guardate! Sentite che se lo sia! Come mai, Ninite, balla come Mercoledì? Aspetta! È come se... Aspetta un attimo! Addio! Rovini sempre tutto! Ah, beh, non importa! Ciao, piccoli! Dov'è il vostro fratellone? Ah, eccoti qui! Oh, il mio piccolo! Enid, che ci fai nell'armadietto di Mercoledì, eh? Tu odi i ragni? Oh, sì, beh, mi sono confusa! Ma il tuo armadietto è laggiù! Che buon profumo! Amo i fiori! Eh, che strano! Dai, beh! Questi sono per Enid! Prendi! Non sono mica miei! Oh, che strano! Sono stufa di fingere di essere te! Andiamo a cambiarci! È ora di sbarazzarsi dei più stupidi capelli! Che stupidi capelli! Ci ho messo così tanto per farli così! Sei così cattiva! Ritira quello che hai detto! Spostati! Oh, che caffona! Beh, ehm... No! Eh, no! Smettila di tirare la mia roba! No! Spazzatura! No! Lascia stare la mia roba! Ah! Ecco cosa mi serve! Oh, non toccare i miei capelli! Adesso mettiamoci al lavoro! Più nero ci sarà, meglio verrà! Ora tingiamo questi capelli! Oh, devo premere il pulsante avvio! Accidenti! Ottimo! Mi sento di nuovo me! Oh, no! I miei capelli! Molto meglio! Hai rovinato i miei capelli! Te ne pentirai! Niente più treccine! Molto meglio! Oh, ma adesso li voglio colorati! Ah! Eccovi qui, colori belli! Wow! Ottima vendetta! Eccoci qua! Cominciamo con il blu! Ho bisogno di un mix di colori che illumini la mia giornata! E credo che il rosa sia il colore più adatto! Non ne posso fare a meno! Io! Ok! È così che si colorano i capelli! Guarda! Bisogna fare attenzione con la carta stagnola e poi si deve piegare! Bene! Ora aspettiamo! Che ne pensi? Sembri una patata al forno! Le patate sono deliziose! Fatto! Sto bene o cosa? Preferisco le patate al forno! Oh! Devo rimuovere questo rosa! Il pranzo è qui! Buon appetito! Oh! Wow! Dei pancakes! Troppo dolci! Eccì! Fa niente! E se lo sfumassi? Sì! Allora è perfetto! Pancakes bruciati! Proprio come piacciono a me! Ottimo come ombretto scuro! Devo fare anche l'altro occhio! Bene! Nero come la mia anima! Eh! Io! Devo togliere questo trucco! Oh! Mi manca la mia vecchia faccia! Oh! Ma certo! Oh! Faccia mia ti riavrò! Devo solo rubarti il trucco! Questi colori mi scaldano il cuore! Ops! Scusa! Oh no! Sono così pallide! È tuo! Ragazzi! Siamo in ritardo per il test! Fa! Sbrigatevi! Siamo ancora in pigiama! Hai ragione! Ha ragione ragazzi! Oggi ci sarà! Ma come siete vestite? Niente pigiama a scuola! Avete capito? Sì! Professor Jonathan! Sì! Dobbiamo trovare dei vestiti! Ok! Ecco! Sono in ritardo per il test! Facciamolo! Sono in ritardo per il test! No! Ehi tu! Dammi i tuoi vestiti! No! Chiudi! Ehi! 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 Ti gentile per favore! Il mio libro! Oh che figura! Oh che cavolo mamma! Non male! Spattatura! Ok! Per il test di oggi dovete creare qualcosa di artistico! Artistico? Oh! Cosa posso fare? Ho solo queste matite! Ti aiuterò io! Chi avrebbe mai pensato che le calze a rete potessero essere così utili? Ecco! Usa questo! Bene! Wow! Mi piace! Grazie! Ora c'è un buco! Oh! Posso aiutarti? Ora creerò qualcosa! Oh! Verrà benissimo! Da da! Eccoti dei guanti! Guanti? Ok! Quindi? Non male! Biggie! Ecco i risultati del test! Wow! Abbiamo tenuto un otto più! Ma perché sei così strana? Non siamo più amiche! Addio! Non ho più amiche! Oh ma dai! Stai piangendo! Ehi! Va tutto bene! Su! Su! E ora come farò? Proverò a fare un incantesimo! Ingredienti! Ecco! Per questa pozione ce ne vorrà molto! Bene! E adesso gli inserti! Bleh! Io! Tieni! Fantastico! Alcune proteine! Mi servono degli altri insetti! Userò quelli di scorta! Del resto è per una buona causa! Un'ultima cosa! Cosa? Aia! È esattamente ciò di cui avevo bisogno! Eccoti! Adesso è pronta! Bevi! Beh, in effetti! Non è così male! Senti qualcosa? Beh, credo di sì! Aspettiamo! Forse è caldo! Ancora un po'? Oh no! Sto per! Che schifo! Non credo abbia funzionato! Mi dispiace, Mercoledì! È così difficile essere te! Anche a me dispiace per te! La tua vita è davvero difficile! Andiamoce ne a letto! Sono di nuovo io! Di nuovo! Oh no! Finalmente! Non posso credere che tu abbia rovinato i miei capelli! Era necessario! Pugsley? Chi? Mio fratello ha bisogno di me! Io ho bisogno di un lavoro! E come farai a trovarne uno? Santo cielo! Cosa farai? Ma fai sul serio? Aia! Farei qualsiasi cosa per Pugsley! Interessante! Penso che sia meglio di questo posto! Eh! Questo è mio figlio, Tom! Beh, allora buona fortuna! Vabbè, immagino che dovrei cominciare! Io sono lunedì! E questo è Manu! Non mi metti paura! Veramente? Manu, facciamogliela vedere! Che cosa? Che schifo! Sarà facile! Dunque, è ora di disegnare! Vengiamo se ti piace questo! Eh, è il mio capolavoro! Oh! Wow! Tata! Guarda! Manu, tienimi per un attimo questo! Ridammelo! Lasciami in pace! Sei fortunato che tua madre mi paga bene! Altrimenti non sarei così paziente! Copriamo anche questo! Finalmente! È ora di dipingere! Così! Adesso ti faccio vedere io, Tata! Adesso come farai? E che ci vuole? Mi stai sopravvalutando? Cosa? Bel tentativo! Ma come? Ti farò vedere io! Devo lavarmi? Finalmente posso farmi una doccia! Carlicce gel! Non è di! Apri la porta! Ancora dieci minuti! Me la sto per fare sotto! È troppo tardi! Oh, oh, no! Il mio succomo! Ti farà uscire da lì! Vediamo che cosa abbiamo qui! Penso di avere un'idea! Bene! È ora di rompere il tubo! Ma dov'è l'acqua? Sul serio? Adesso fatti una doccia con questo! Oh, oh, ma dai! Oh, oh, oh! Finalmente! Che strano odore! Oh, ma cos'è? Oh, assaggiamolo! Ma è succo! Hai deciso di andartene? Dannazione! Patetico! La prossima volta usa il sangue vero! Finalmente sei uscita! Non ce la faccio più! Ma che bella paperella! Volevi fare un bel bagno, eh? Ora ti faccio vedere io! Tu sei pazza! Puoi scommetterci? Quindi faresti meglio a non giocare con me! Devi raccontarmi una storia! Beh, ne conosco una! C'era una volta un ragazzo! Gli piaceva molto il suo peluche! Ma poi rimase da solo con il peluche dai denti molto affilati! Mostra! Oh, che cretino! Non ci sono i mostri! Non raccontarmi più storie! Come desideri! Oh, cos'è? Wow! Che cosa è stato? Cosa sta succedendo? Scacco matto! Ehi, tu! Vai a dormire! Non sei proprio strana! Domani alla stessa ora! Oh, sul serio? Altri cinque minuti! Che cos'è? Cos'è questo terribile rumore? Oh, sei tu! Abbassa la musica, per favore! Cosa? La vuoi più forte? Va bene! Guarda che masse! Va bene! Non mi lasci altra scelta! Ma dove? Prendi questo! È tutto ciò che sai fare? Schivato! La mia mossa alla Matrix! Oh, no! La mia musica! Schicchiato! E adesso? Che esagerazione! Che schifo! Togliti di torno! Stai sempre più veloce! Così impari a farmi mangiare le verdure! Grazie! Chi vuole essere la prossima? Sono la tua nuova tata! Sì, eh? Vedremo! Tu non sei un cane? Chiediamolo! Ehi, ma che fai? Oh, oh, santo cielo! Scusami tanto! Cosa? Due tate? Oh, sono meglio di una! Accidenti! Comunque adesso ho fame! Buon appetito! Ti piace quello che vedi? No! È una mano! Che fai? Io ho qualcosa di meglio! Cosa? Ti piacciono le caramelle, vero? Rendiamole ancora più gustose! Che la liofilizzazione abbia inizio! Guarda che figo! Croccante! Le caramelle! Ottime, direi! Oh, non credo proprio! Dammi quelle caramelle! A lui piacciono! No! Le caramelle! Fermati! Cosa? Aspetta! Cos'ho in faccia? A me gli arcobaleni non piacciono! Il nero, invece, sta bene su tutto e tutti! Fidati! Molto meglio! Cosa? Dovevo fare pipì! Questa è bella grande! Eccola! Eccola! Tante! Tom! Tom! Sono arrivata prima io! Sono arrivata prima io! Tante! Adesso mi sistemo io! Oh, sì! Lo credi veramente? Sì! Oh, accidenti! Io me ne vado! Oh, no! Vi devo aiutarlo! Non preoccuparti, Tom! Sto arrivando! Cosa c'è che non va? Ah! Ti piace l'odore? No! Eccoti dei tubi galleggianti per la piscina! E ora sono a misura di bambino! Divertiti! Ma che bello! Che figata! Che ne dici di qualcosa di ancora più figo? Dei pesciolini, mio caro! Ah! No! Odo i pesci! Era proprio necessario! Non sono mica reali! Sono finti! Dormi adesso, Tommy! Ci vediamo domani! Notte, notte! Oh, sta dormendo! Ssh! Come no! Fammi controllare! Sarà dormendo veramente? Non credo proprio! Wow! È un vampiro! Io adoro l'aravi... Ma quello è coso? Raggiù c'è qualcosa! Ma cos'è? Vido qualcosa! Ecco che arrivo, Tommy! Ci penso io! Inid! Ai, che dolore! Chi sei veramente? Oh, mercoledì! C'era un mostro! Non preoccuparti, non c'è più! Adesso ti leggo qualcosa! Pifone! Ok! E fu allora che la principessa uccise il drago! Ehi, Enid! Lo sapevi che stanotte c'è la luna piena? Guarda! Oh no! La luna piena! Sta succedendo! Non posso fermarla! Andatevene! Non potrà controllarmi! Enid, che succede? Addio, Tom! Aspetta! Riesco a controllarmi! Stai bene, Enid? Sì, scusami! Accidenti a te! Hai rovinato il mio piano! Mi stai zitta! Aspetta, sta dormendo! Beh, lasciamolo fare! Ma io ti voglio dire ancora una cosa! Dovrei fondare una rock band! Che diavolo! Tom! Adesso ti aiuto io! Vieni qui! Adesso ci penso io a te! Che fai? Devi solo togliermi la scheggia! Falla finita! Che ti credi di fare? Lo so io come togliere quella brutta scheggia! Ma abbi solo un attimo di pazienza! Grazie! Hai visto? Aia! Mi fa male! So come farti guarire più velocemente! Eccoti! Oh, è un'altra cosa! Ora ti ho messo dei punti! Hai visto? Stai già molto meglio! Che follia! Wow! Guarda cosa ho trovato! Dei punti! Oh! Oh! Guarda quanti giocattoli! Collisioni! Tommy sono qui! Pulisci subito la tua camera! Come no? Se vuoi che il tuo sacchiotto viva, allora lo farai e subito! Altrimenti farò una brutta fine e dovrai dirgli addio per sempre! Pensa in fretta! Oh no! Meglio che pulisca subito! Ecco... Ho poco tempo! Oh! Hai finito di pulire! Allora fermerò la fiamma! Ecco! Meno male! A quanto pare... Ridami il mio sacchiotto! Stai bene? La fiamma è stata spenta! Pensavo di averti perso per sempre! Andiamo al cinema! Dov'è Tommy? Tommy? Se n'è andato! Dove sono finito? Ho paura! Oh no! Tommy! Manu! Ho bisogno del tuo aiuto! Eccoti qua! E buona fortuna! Ti ho preso, Tom! Aiuto! Cosa? Trappa veloce! Come? Signor sacchiotto? No! Andiamo al cinema? Siamo in tre! Oh! Devo indovinare il film! È arrivato il momento di vivere in tizzi! Adesso vi faccio uno scherzo! E via! Sarà troppo figo! Oh! Cos'ho in bocca? Che strano! Enid! Mercoledì! Come osi! No! Sei stata tu! Ti credi di essere furba? Beh! Ora sono cavoli tuoi! Questo film è troppo figo! Non posso crederci! I miei capelli! Ora ti faccio vedere io! E non ti piacerà! Enid! Non farlo! Mi hai quasi presa! C'è mancato poco! Voi due! Che cosa vi credete di fare? State distruggendo la sala! Adesso voi due venite con me! Crentini! Troppo divertente! Io sono i minovenni! Salve bella addormentata! Che ne dici di uno manicure? Chi non ama il rosa? Non preoccuparti! Non sentirai nulla! E in men che non si dica? Le tue mani sono bellissime! Adesso abbiniamoci dell'ombretto rosa! Tu continui a dormire! Con questo nuovo look farai colpo! Ehi! Stai veramente bene! Wow! Spettacolare! Oh! Io devo andare! Oh! 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 Aspetta! Queste non sono le mie mani! Oh! Oh no! Enid! Me la pagherai! Oh! La 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 la! Oh! L'acqua non esce più! Un po' di succo di pomodoro ci starà proprio bene! Oh! Devi funzionare! Oh! Finalmente! È bella calda! Un odore però! Ma cos'è questa roba? Oh! Oh! Che diavolo! Sei stata tu! Che lo spettacolo abbia inizio! Oh! Oh! Non posso credere che tu mi abbia fatto questo! Quel colore ti dona? Oh! Aiutate! Aiutatemi! Oh! Dov'è? Oh! Non lo so! O lì dentro! Oh! Nel bidone della spazzatura! Aiutatemi! Deve essere qui dentro! Spostati! Sto arrivando, Tom! Oh! Dove sei? Oh! Cosa sta succedendo lì dentro? Oh! Ma quanta spazzatura! Aiutatemi! Ora basta! Adesso ci penso! Guarda cosa ho trovato! Aiutatemi! Stai bene? Esci da lì! Aiutatemi! Non ho parole! Mano? Dimmi dove è Tom! Dovresti vedere la mia mano sinistra! Dimmi dove è Tom! Tati! Aiutatemi! Tati! Bisogna seguire la sua voce! Tom non è qui dentro! Ma che fai? Dobbiamo collaborare! Ok! Ok! Aiuto! Ti prego! Ti prego! Ma chi sta guidando? Ti prego! Aiuto! Inidei nei guai? Mercoledì l'avrà presa! Sono innocente! Non ho fatto nulla! Smettila di piangere! Tre! Due! Uno! No! Aspetta! Dov'ho spararli! Ero io! Ero io alla radio! Sì! Oh! Sul serio? Tom, stai bene? Sono morto? Cos'è successo? Sembra che il nostro piano abbia funzionato! Oh, Tom! Tom! Non è giusto! Su, forza, Tom! Vieni qui! Sì? Siete le miglioritate del mondo! Lo sappiamo! Aspetta! Sto cominciando a ricordare! Chi ha messo questa cosa sul mio armadietto? Concorso di bellezza? Ci sto! Eccomi! Sono nuova qui! La nuova ragazza vuole vincere? Lo vedremo! Quella è Sirena! Vince sempre lei! Ragazze! Quella è Kim! La più bella tra i lupi mannari più carini, ma non per me! Ragazze, la smettete di litigare! Forza! Ti aiuterò io! Principianti! Sei così fortunata che siamo compagni di stanza che aiuterò io per questa competizione! Aspetta un attimo! La tua pelle è così secca! Sì? Ti faccio vedere! È come il tronco di un albero morto! Affascinante! Penso che questa maschera funzionerà! È la mia occasione! Torniamo alla realtà! La maschera speciale da Sirena di Kim! È proprio necessario! Com'è rilassante! Mi ricorda la cera calda! E questo è solo l'inizio! Ora devo toglierla! Userò questa! Fermati! Userò la mia! Ci vorrà un attimo! Com'è estrema! Questo lo consideri un selfie, vero? È solo un foglio insanguinato! Guarda! Vedi? Pura scienza! Ma non è vero sangue! Almeno avrà funzionato! Aia! Ops! Scusa! Rimuoviamo la pelle morta! Stranamente soddisfacente! Sto perdendo la pelle come un serpente! Che sensazione strana! Disgustoso! Vediamo se questa maschera ha funzionato! Sì! Così morbida e liscia! Oh! Questi peli vanno tolti! Eccoci! Ho messo un millisecondo! Iu! Sembrava il corno di un unicorno! Ora rendono le tue sopracciglia più belle! Con una forchetta? Vedrai! Trucchetto facile! E indolore! Fatto! Sei ancora troppo pelosa! Grazie! Oh! Io lo so! Seguiamo questo tutorial! Un tutorial su TikTok! Sul serio? Aggiungiamo dei colori! Acobi brown, acobi blu, acobi viola sky! Spugnetta gommosa! E ora sfumiamo il tutto! Basta! Fala brava! Prendi! Finalmente un po' di tempo per me! Sul serio? Assomiglio a quella finestra! Fortunatamente ho i miei di trucchi! Il mio preferito! Cipria bianca come la morte! Già comincio a sentirmi meno viva! Molto meglio! Dallo! Ops! Ora dobbiamo continuare con le labbra! Ti farò delle labbra cosmiche! Bene! Wow! Mi piacciono! Ma non ho ancora finito! In realtà non mi disgusta! Chiudi gli occhi! Ma è sputo? E ora rimuoviamo la pellicola! Lo odio! Io lo adoro! Il nero e il nuovo rosa! Ora guarda e impara! Non sono la tua classica Barbie! Vedi? Va bene! Andiamo! Ho qualcosa di speciale per te! Non tu, signor coniglietto! Ah! Nemmeno tu! Ah! Signor porcellino! Questo è il signor porcellino e l'ho fatto da sola! Saluta, signor porcellino! Mi servono le tue belle ciglia! Non riesco più a vedere! Guarda come ti stanno bene! Non riesco a vedere! Guarda che non è affatto divertente! Ma stai bene? Ti sembra che sto bene! Rilassati! È solo uno scherzo! Uno scherzo! Ma i tuoi occhi! Cosa hanno i miei occhi? Ok! Ora va meglio! Ma se aggiungessimo un po' di fantastico rosa? Guarda! Fluorescente! Assolutamente no! Ho detto no! Voglio usare questo! Preparati! Ora non muoverti! Applichiamo! Sei contenta adesso? Ti sta tanto bene! È così figo! A me piace! Ciao, nonnina! Ho bisogno di te! Prepariamo! Applichiamo! Cosa? Perché sei così seria? Stai bene? È un altro scherzo! Niente più scherzi! Le mie unghie! Guarda come mi hai ridotta! I tuoi capelli! Devo fare qualcosa! Credo che... Non pensarci nemmeno! Ok! Lasceremo le trecce così come sono! Questa ragnatela magica salverà la situazione! Facciamolo! Questa roba è così appiccicosa! Puoi persino usarla per arrappicarti sulle porte! Sei pronta? Non male! Anche mia madre usa le ragnatele! Ed è così divertente da applicare! Tiriamo in su le trecce! Un bello scignonne! Un classico senza tempo! Mi servono dei fermagli! Ma dove? Oh! Eccoli! Oh! Ma sono ossa vere! Ma certo che no! Oh! Non si sa mai! Quindi? Ti piacciono? Li adoro! Rendiamoli più brillanti! Oh! Che belli! Come ho fatto questo ad arrivare qui? Vediamo le tue unghie! Ma perché? Ma cos'è tutta questa roba? Oh! Che schifo! Ma questa volta dico sul serio! Iu! Puliamoli! userò il miglior detergente sul mercato! Ma è per animali! Esattamente! Dammi la tua mano! Ora mettila dentro! E muovila! E muovila! Brava! Sorprendentemente efficace! Bellissima! Non vincerai di certo con questo outfit! Ho qualcosa per te! Aiuto! Vieni! Pulsante per l'emergenza è di moda! Tutti quanti dovrebbero averne uno! Ecco che arriva un vestito! Questo è per te! Non esiste! Cosa? Wow! È incredibile! Oh! Il tessuto è favoloso! Non toccarmi! Oh! Ma il vestito! Non fa per me! Non ho bisogno di questo arcobaleno sulle mie braccia! Non preoccuparti! Adesso ci penso io ad alcune modifiche! E non voglio nemmeno questa collana! Non siamo nel 1800! Altro arcobaleno! Non credo proprio! E ora sono pronta! Cosa? Ma è noioso! Aggiungiamo un po' di... Glitters! Preparati! No! Non muoverti! Ma mi piaceva così com'era! Mi stai trasformando in una palla da discoteca! Il sederino lucido ti aiuterà a vincere! Fai silenzio e fidati di me! Secondo round! Niente più glitter! Qua sta perso! Fermati! Con questo tool non posso coprire il glitter! Ora va meglio! Ok! Non male! Oh no! Io! Quanti ragni! È uno scarafaggio! Accidenti! Che schifo! Ho qualcosa per te! Aspettami qui! Oh no! Ti prego non un altro pulsante! Ecco! Anche io ho dei segreti! Eccolo qui! Spingi! Ed ecco la mia collezione segreta di scarpe! Ma hai costruito tu questo nascondiglio! No! L'ho fatto uno dei precedenti coinquilini! Andiamo avanti dai! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Scelgo quelle rosse! Ti staranno benissimo! Prendi! E ovviamente io le voglio tutte nere! Di nuovo! Sono mie! Ossa buone! Lasciamo perdere! Ora sei pronta! E tocca a me! Vediamo cosa ho! Perfetto! Oh wow! Ti piace il mio vestito? Stai benissimo! Oh! Anche io voglio un bel seno! Oh! Oh! Ho un gadget che ti aiuterà! Proviamolo! Andrà così! Facilissimo! E' fatto! Ma non ha funzionato! Aspetta! Ora ci penso io a te! Oh! Mi fai il solletico! Penso che ci siamo! Sì! Andiamo! Sirena! Finchinatevi alla regina del mare, poveri terrestri! Oh! Vi amo! Grazie! Mi dispiace per voi! Vai! Non preoccuparti! La batterai! Vai! Adesso tocca a me! Fatemi sentire il ritmo! Ce la posso fare! Com'è liberatorio! Ma vi piaccio! Oh! Oh! Wow! Grazie! Oh! La fortuna del principiante! Sono così felice per te! Possa tu riposare in pace! Devo sbrigarmi prima che qualcuno... Oh! 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 Ma che succede? Signor agente, qui non c'è niente da vedere! Verrà in centrale con me, signorina! Incredibile! Guarda la fotocamera! Odio il flash! Questo posto è troppo luminoso per la mia anima! Ancora una volta! E io? Oh! Mano! Pronta? Non vedo niente! Cos'è che non va? Stupida fotocamera! Va bene! Usiamo questa! Di nuovo! Non funziona nemmeno questa! Ma non mi arrendo! Perché? Non funziona! Beh! Ma gli estremi e gli estremi rimedi! Stia ferma, mademoiselle! Devo tirare fuori il monique in moi! Magnifique! Ecco qua! Oh! Non mi assomiglia affatto! Quello è mio padre! Che brutta uniforme! Odio l'arancione! Come posso aiutarti? Ho bisogno del mio vestito! Certo! Bravo, Mano! Ti mettiamo creativi! Che ne dici? Adesso farò un vero capolavoro! Psst! Ho fatto! Provalo! Mi conosci troppo bene! Ottimo lavoro, Mano! Di nuovo in nero! Finalmente! Animaletti preferiti? Cintura nera? Molto, molto meglio! È ora di fare un pisolino! Ma che succede? Oh, non saprei essere così flessibile! Bene! Niente più pisolino! Deliziosi! Anche io ho fame! Ne vuoi un po'? Oh, sì, sì! Ah, sciocchina! Mi sento molto generoso! Oh, grazie! Upsi! Stavo scherzando! Te ne pentirai! Ah? Oh, ehi! Vieni qui! Che c'è, signorina? Ho bisogno di alcuni piragna! Cosa? Ah, non esiste! Tocca a te, Mano! Lo farò un attimo solo! Ottimo lavoro, Mano! Eccoti qui! Grazie! Che tipo strana! Qui staranno benissimo! Ciao, ciao! Il primo passo è fatto, ora il secondo! Ah, ecco cosa mi serve! A chi non piacciono i biscotti con un po' di slime! Questo biscotto è così fresco, lo mangerò io stessa! Fermati! Fermati! Adoro i biscotti! Buonissimo! Che buono! Mi sento strano! La mia pancia! Perché fa così male? Può usare il mio gabinetto! Ottima idea! Sbrigati! Ora è il momento di vendicarsi! Che diavolo! Mi sono fatto male! Che tipo! Com'è drammatico! Ehi! Ma quelli sono popcorn! Che sfigato! Grazie piragna! Ciao! Non male! Ehi tu! È ora di mangiare! Incredibile! Mangia! Cos'è questa roba? Io! È grumosa e poco appetitosa! Beh! Disgustosa! Non esiste! Accidenti! Il mio cibo preferito! Oh! Ho un'idea! Scusa! Scusa piccolo scarafaggio! È ora di fare uno scherzo! Ehi! Ehi agente! Che c'è? Che buono! No! Ora tocca a te! Buongiorno! Buongiorno! Facciamo qualcosa di creativo oggi? Va bene! Oh! Ottimo lavoro, Mano! Morticia lo apprezzerà! Dei muscoli forti potrebbero tirarmi fuori di qui un giorno! Oh sì! Uno! Due! Sassu carta forbici! Sassu carta forbici! Sassu carta forbici! Ho vinto! Stupido gioco! Molto meglio! Che fa? Sto ballando! Buon per te! Missione fallita! Devo inserire questo! Che succede? Ti aiuterò io! Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Aiutami! Trovata! Che diavolo! Che strano! Ormai non può più ingannarmi! Beccata! Molto divertente! Veramente? Mi hai beccata? Ah! Divertante! Ok! Dov'è il mio caffè? Ne ho proprio bisogno! È freddo! Che cretino! Adoro lavorare a maglia! Oh no! Devo andarmene di qui! Mano! Al tuo servizio! Ho bisogno di un piano di fuga! Credo che questa possa aiutarmi! Ecco! E che ci faccio? Mi serve la chiave! Certo! Ecco! Veramente? Che ne dici di questa? No! Forse! Forse! Questa! Allora farò da sola! Fatto! Questa chiave mi permetterà di scappare! Proviamola! Non dovrebbe essere difficile! Ah! Proprio come pensavo io! Dilettante hai detto, eh? Dove credi di andare? Uffa! Dammi la chiave! Grazie! E torna nella tua cella! Ok! Rilassiamoci un po'! Oh! Tre tirapiedi sono scappati di prigione! Mano, portami la chiave! Sbrigati! Certo! Ecco! Laggiù! Questa? Ok! Ecco! Guarda! Ma cos'è? A me serve la chiave! Oh! Ovvio che sì! La chiave! Sì! Quella è la chiave! Va bene, va bene! Questa! Oh! Questa! Bene! Veramente! Eh! Ecco! Ho veramente bisogno della chiave! Oh! Sì! La chiave! Sto cominciando a stufarmi! Che cosa è successo qui? Oh! Oh! Le chiavi sono al sicuro! Oh! Meno male che ho ancora le chiavi! Fatto! Ah! Perché è così silenzioso? Oh! Ti faccio vedere io! Ci cascherà di sicuro! Bene! Eccoci qui! Dove dovrei metterlo? Qui starà benissimo! Ma che cos'è? È una specie di trucco! Come evadere dal carcere? Vediamo cosa c'è scritto! Ma è uno scherzo! Un altro passo verso la libertà! Ah! Beccata! Che accidenti è! Ma è disgustoso! Aspetta! Cosa? Ehi! Che fai? Ehi! Questa robaccia va nel gabinetto! No! Il mio libro! Oh! No! No! Di addio al tuo libro! Ora mettiamoci al lavoro! Aggiungiamo delle sostanze chimiche! Facciamo una bella pozione! Non amo molto questi colori! Ma fa niente! Adesso mi serve un po' di glitter! E di nuovo! Non ci vado matta! Ancora un pochino! E diamo una bella mescolata! Fatto! Vediamo! Sembra pronta! Ehi! Agente! Che c'è? Guarda! C'è un pipistrello! Dove? Un pipistrello? Eh? 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 Non ci sono pipistrelli! Bugiarda! Scusami! Eh? Mercoledì! Mercoledì! Ti amo! Io! Accidenti! Oh! Forza! Oh! I miei pantaloni! Passiamo al piano B! Se nulla funziona... Allora proviamo con l'elettricità! Che fai, Mercoledì? Cosa? Ma sei impazzita? Questa volta la chiave sarà mia! Perchè indosso un vestito? Sì! Sono così stanca! Anche io! Fammi uscire da qui! Cosa? Ah! Sì! Il mio turno è finito! Ecco le chiavi! Fai quello che vuoi! Sul serio? Veramente? Bene! Ci siamo! È ora di andare a scuola!